Il match è attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Gara che sta dunque per cominciare, le squadre sono già scrivate a centrocampo, si attende solo il fischio d'inizio dell'arbitro. Io ne approfitto per salutare Stefano Nava. È un piacere, caro mio. Ci siamo, sa per avere inizio la sfida tra Real Sociedad e Real Madrid. Entrambe le squadre ci tengono a non sfigurare oggi, da una parte c'è da mantenere la vetta della classifica, dall'altra la voglia di battere la prima della classe. Se è vero che la miglior difesa è l'attacco, beh oggi dovrebbe essere un confronto a distanza incandescente tra questi due giocatori e queste due squadre. Hanno talento da vendere, possono risultare decisivi con le loro giocate, sicuramente due frecce importanti all'arco dei rispettivi allenatori. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. L'allenatore ha scelto di schierare in una sola punta di ruolo, supportata da due sterni di spinta sulle fasce. 4-5-1 d'attacco, in grado di garantire anche una certa copertura in mezzo al campo in fase di non possesso. Questi sono gli uomini di partenza per il Real Madrid. Si presentano con tre attaccanti oggi, di cui due larghi sulle fasce e uno come riferimento al centro, dunque 4-3-3. Chiara la loro intenzione di giocarsi alla viso aperto, lo spettacolo potrebbe guadagnarne. Il Real Madrid, squadra in buona salute, come ha dimostrato l'ultimo match interno, quello vinto in casa contro il Levante. Sono in un ottimo momento di forma Pierluigi, vengono da un netto 6-0, hanno tutte le carte in regola per uscire dal campo con i tre punti anche oggi. Direzione di gara affidata a Daniel Sengasbeio. Ci siamo! Possiamo cominciare! Sani! Occhio, c'è il canale di rigore! Occasione! Traversa! Incredibile occasione! Occasione d'oro per passare in vantaggio, gettata al vento dal Real, il tecnico delle Merengues, dimostra di non gradire l'errore del proprio giocatore. Surutusa! Ci sarà rimessa laterale per il Real Madrid. Sergio Ramos Sani! Attenzione alla CR7 Intervento importante del difensore che la mette in angolo. Ecco qui il replay dell'azione precedente, veramente a un passo dal gol. Occhio al corner di Tony Varana! Ha dimostrato i suoi limiti nel gioco aereo, almeno in questa occasione. Deve averla colpita male, credo. Non si piega altrimenti come la palla abbia preso una traiettoria strana e si è terminata largamente sul fondo. Occasione d'oro per passare in vantaggio, gettata al vento dal Real, il tecnico delle Merengues. Mostra di non gradire l'errore del proprio giocatore. Cristiano Ronaldo porta palla. Attenzione a Cristiano, alla palla del vantaggio. Pallone in gioco, attenzione! Recupera palla, intercettando bene il pallone. La velocità di Bale. Cristiano. Attenzione a Kroos. Kroos! Allontana il difensore su questo tiro. Fallo laterale in favore del Real. Sané. Occhio a Modric. Attenzione a CR7. Caseviro! Si ripartirà col tigolo della bandierina per il Real. Sané. Sané. Va, Toni Kroos, in mezzo. Sarà rimesso laterale per il Real Madrid. Marsella. Bale. Casemiro. Cristiano. Sergio Canales. Palla recuperata, azione interrotta. Cruz. Cristiano Ronaldo. Si avvicina all'area. Rulli. Grande parata qui. Arrivano le torri per cercare di sfruttare questo cross sul calcio d'angolo. Sicuro il portiere che risponde a questo tentativo dalla distanza. Un gran bell'intervento. D'applausi. Una conclusione spettacolare alla quale si è opposto il portiere. Riccardo. 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 Occhio al corner. Varana. Non è finita. Attenzione. La spazza via Casemiro Cross Cristiano Ronaldo Modric Ottima lettura, recuperano il pallone Bravo qui il difensore Che legge bene questo pallone Il Real Madrid supera la metà campo Protegge il pallone Sul pressing a Versailles Occhio a Modric Sventa qui la minaccia Possibilità di contropiede Passaggio intercettato Interrompe bene l'azione Intercettando il lancio Occhio cerca l'area di rigore Prova dalla distanza Occhio a Cross Marcello Casemiro Un allenatore che decide di arretrare il baricentro della squadra Vuole far uscire gli avversari E sfruttare eventuali spazi per le ripartenze Occhio a Traversone Distinto il difensore Spazza via Difesa che fatica a raggiungere E l'arbitro manda tutti Negli spogliatoi 0-0 Alla fine dei primi 45 minuti Chieda Stefano Navo Giurizzo su Cristiano Ronaldo Fino a questo momento Ha giocato un brutto primo tempo Girando un po' a vuoto E facendo mancare il suo contributo In zona gol Si spiega anche così Il pareggio maturato al termine Dei primi 45 minuti Si riparte con il Real Madrid Che può battere il calcio all'inizio della ripresa Bale Carvajal C'è spazio per andare Occhio a Traversone Sventa qui la minaccia Cross Tony Cross Prova È un gol che preme i loro sforzi Il loro gioco La loro ricerca del gol Che finalmente è arrivato Vantaggio strameritato Il gol era Nell'aria Si respirava Già da diversi minuti Ed ecco che è puntualmente arrivato La regia ci mostra nuovamente il gol Da un'altra inquadratura Real che è passato in vantaggio L'allenatore delle Meringues Non riesce a trattenere la sua gioia per questo gol Il Real Madrid dunque Può adesso gestire E il vantaggio si riparte Hector More Buona triangolazione Punta l'area È stato fermato dal difensore C'è Pressin su Modric Casemiro Bale Garrett Bale È atteso tra i possibili protagonisti di questa sfida E non potrebbe essere altrimenti Vista le sue qualità Non ha piedi educatissimi Ma quando parte in progressione È difficile Stogli dietro Una vera forza della natura Pallone che trova il palo Palla ancora buona Palla messa fuori dal difensore Si riparte con una rimessa laterale Tony Kroos Baragna Metri Baragna Metri Modric Modric Si avvicina all'area Si libera dalla marcatura Il difensore Grande parata Grande riflesso Super qui il portiere Chance importante Dalla bandierina A caccia del gol Del doppio vantaggio Splendida la conclusione Dalla distanza Splendida La risposta del portiere Un gran bell'intervento Da applausi Una conclusione spettacolare Alla quale si è opposto il portiere Occhio al corner Di Tony Kroos Buono l'intervento del difensore Che spazza via Difesa sotto pressione Ci sarà nuovamente calcio d'angola Si accomoda in panchina C'è il boato Come sentite del pubblico Evidentemente soddisfatto Della prestazione Di questo giocatore Dai a poco da rimproverarsi Oggi è stato tra i protagonisti Nelle file della sua squadra Va Tony Kroos Refinge il pallone di pugno Sta avanzando Sta avanzando Ha rindovinato il cambio Fortunato Hanno segnato tutto secondo pronostico Sono la squadra favorita Hanno tirato sicuramente di più fin qui Si stanno gestendo Stanno controllando la gara A loro piacimento Come dimostra anche il numero di palle e gol Create Risultato che soddisfa sicuramente l'allenatore Finora c'è stata una sola squadra in campo Allenatore che toglie uno dei protagonisti della spina di oggi Ci sono gli applausi Una vera e propria standing ovation per lui Ha giocato una buona partita Pierluigi Attento Concentrato Hanno raddoppiato Adesso sono avanti 2 a 0 Ancora un quarto d'ora da giocare Calcio di punizione assegnato dall'arbitro I giocatori non potranno certo lamentarsi Del comportamento del pubblico Che sta dando un contributo incredibile Stanno mettendo a rischio le loro code vocali Per trascinare la propria squadra E' un risultato positivo Attenta qui la difesa Palla allontanata Partono in contropiede C'è spazio davanti a sé C'è profumo di gol nell'aria Trova la botta Reze nel Madrid Il Real sembra davvero non volersi fermare oggi Incredibile D'altronde con l'attacco che si ritrova Rivediamo questo gol da un'altra angolazione Sembrano ormai a vedere la situazione sotto controllo 600 secondi da giocare ancora Puntuale qui il difensore nel recupero Dopo le voci di mercato E' arrivata la conferma ufficiale Il Matador Edinson Cavani Si è trasferito al Chelsea Dal Paris Saint Germain Cercavano un giocatore con le sue caratteristiche E hanno deciso di puntare su di lui Riuscendo alla fine a metterlo sotto contratto Ia Ramendi Recupera la palla Intercettando bene il pallone Si avvicina all'area CR7 Attenzione E c'è il tiro Palla che colpisce la traversa E torna in campo Punto di battuta del calcio d'angolo L'allenatore sta per mandare in campo Forze fresche Palla messa in mezzo Bravo anche qui Il difensore che allontana Si aprono spazi invitanti Può sfruttare lo spazio lungo la corsia Occhio al cross Palla raccolta Senza problemi dal portiere E si chiude qui anche il secondo tempo Match che praticamente è durato pochi minuti Giusto il tempo per questa squadra Per prendere il largo E salutare gli avversari La formazione avversaria Passa da subito